Bene, allora adesso vi farò ascoltare una telefonata, una classica telefonata che faccio io quando vado a proporre l'attività a una persona, o normalmente o specialmente dopo averli già anticipato, fatto vedere un video di presentazione e comunque aver chattato e spiegato con dei messaggi vocali o dei messaggi classici l'attività e vado a cercare, a trovare un confronto con la persona telefonico. Questa è la telefonata che a me funziona molto bene perché è molto chiara e esaustiva, più che altro fa sentire che siamo seri e professionali. Ecco, questa è la telefonata. Tu calcola che, Veronica, calcola che? Perché sono parte dei miei migliori colleghi che sono male, ma me come figli perché comunque sono quelle che hanno più bisogno di lavorare a casa in questo momento. Quindi allora ti spiego come funziona l'attività. Allora, noi collaboriamo con un'azienda che si chiama Snap, un'azienda italiana che lavora nel campo del benessere, quindi nutrizione, nutrizione sportiva, make-up, cosmesi, beauty, tutti prodotti di alta qualità e dei prezzi accessibili. Quindi sono tutti certificati a Redisco, sono certificati al Ministero della Salute, sono comunque veramente ottima qualità. Ti invito ad andare sul sito a vedere. e dopo ti spiego che cos'è, se non lo sai, dal 5 al 25%. Quindi azienda italiana, prodotti italiani, azienda certificata, piano compensi molto efficace a differenza di altre aziende. Poi la vera differenza la fa il team con cui vai a lavorare, che è il mio. Allora io ho iniziato questo lavoro tre anni fa. Ho iniziato così per prova perché ero appassionato del lavoro online e ho sviluppato un progetto poi con altre persone che è risultato vincente. Adesso fatturiamo una media di 130 mila euro al mese, solo come noi. Io ho un guadagno che è quasi sette, otto mila euro al mese. Ci sono mamme con tre figli che guadagnano che cinquecento, che mille, che duemila, che tremila euro. Tutto dipende da te. Quello che io ti do è la formazione, lo sviluppo, la possibilità di iniziare immediatamente a lavorare. Quando tu inizi in attività, magari non la conosci, quindi come è successo nel mio caso, prima che vai a regime, prima che capisci come funziona, passano dei mesi. Qua io ti do tutta la formazione per poter partire già domani a lavorare e guadagnare. Poi quanto guadagnerai in base al tempo che gli dedichi? Se non gli dedichi tempo, non fai niente, non guadagni niente. Se invece ti impegni, hai la possibilità di guadagnare tanto. Come si guadagna? Puoi lavorare online, puoi lavorare con Facebook, con le sponsorizzate, con la pubblicità, con i bot, con i funnel. Mari, sono parole che per te, Mari, non ti torna. Poi le imparerai. L'importante è che il lavoro sia semplice e ti assicuro che è semplice, perché ho insegnato a lavorare mamme con tre figli che ormai guadagnano 2.000 o 3.000 euro, quindi non è un problema di complicazione. L'unica cosa che ti dico, che ti servirà, è la voglia di imparare, la voglia di lavorare e la voglia di impegnare. Basta, solo questo. Poi non costa niente, non hai spese, non hai rischi, non hai niente di niente, zero. Non hai nessun vincolo. L'unico vincolo che hai è un vincolo morale, tra virgolette, perso di me, nel senso che se inizi a lavorare, inizi questo progetto, devi impegnarti. Perché se entri e dopo lo faccio domani, lo faccio domani, lo faccio tra un mese, ti dico subito, Veronica, lascia stare perché perdiamo solo tempo e basta. Devi avere voglia di cambiare la tua vita, perché se tu fai un lavoro da dipendente e poi concludo, fai un lavoro da dipendente sempre se lo trovi, punto primo, punto secondo ti danno niente. Quindi se tu vai e cerchi un lavoro che tutti cercano, ti pagheranno sempre poco o niente. Se tu fai un lavoro diverso come questo, perché lo fanno in pochi e guadagniamo tanto, tutto qua il segreto. Non ti so, io non ho mai lavorato in questo, io sono un operatore, tutto lo fanno in questo stadio, quindi ho tutto totalmente una cosa diversa. Sì, sì, no. Ho sempre lavorato, sì, o se sono. Infatti, so, però ho fatto il concorso in molino, ma è un concorso, diciamo, è un concorso. quello è buono perché almeno ci sei fare già con le persone sei capace di parlare con le persone però veramente non devi complicarti la vita questo lavoro è semplice l'importante è che hai voglia di dedicargli tempo se non hai voglia di dedicargli tempo ti dico io lascia stare non iniziare se invece hai voglia di cambiare la tua vita guadagnare, crearti la tua attività guarda il video la prima parte del video guardalo con attenzione c'è la spiegazione di dove ti faccio vedere mamme che guadagnano 1500 2000, 3000 io in due anni mi sono comprato un Porsche non so se sai quanto costa un Porsche costa quanto un appartamento guarda il video con attenzione però che lì ti spiego bene poi detto questo basta se voglia di iniziare fai l'iscrizione una volta che hai fatto l'iscrizione ti metto nella formazione dopo due tre ore che fai la formazione inizi a lavorare e vai dopo vai più ti impegni più otteni risultati tutto fa va bene ok diciamo una cosa io adesso guardo per bene io oggi sono operativo io oggi non ho niente da fare quindi lavoro domani non ho lavoro quindi vediamo nessuno ti dice quando e cosa devi fare praticamente se la puoi guadagni se non la puoi guadagni però dipende da me le tue esigenze e tutto lo che fai dopo ti faccio quando sei una ragazza di Palermo e in Palermo che era ormai io ero con una team leader e ha di calcare un'animee e due paure e ha già un'animee oltre 2.000 euro poi ho guardato che sono le tue esigenze ok ok ciao 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 ciao